Ci siamo. Il corso di formazione per operatrici di accoglienza presso il Centro Antiviolenza Pronto Donna sta per iniziare. E quale migliore occasione che annunciare l'inizio del corso in concomitanza con la giornata internazionale della donna? È nel giorno dell'8 marzo che l'Associazione Pronto Donna, da anni impegnata nella tutela contro ogni forma di violenza sulle donne, ha deciso di annunciare il nuovo corso di formazione per operatrici di accoglienza. Sarà sabato prossimo, è previsto una serie di incontri, 10 incontri da 7 ore, perché così ci dice l'accordo governo regioni del 18 febbraio del 2015, dobbiamo erogare una formazione che abbia minimo 60 ore teoriche e poi prosegue con 60 ore di affiancamento. Una ricorrenza quest'anno segnata dalla pandemia, come del resto l'intero ultimo anno. L'emergenza sanitaria ha così profondamente rimodulato anche i servizi offerti dal centro. Ci siamo dovute reinventare una modalità tutta nuova, quella dei colloqui online, che sono stati possibili e usati con molta frequenza. Cosa abbiamo registrato però? Anche la difficoltà delle donne, perché non trovano uno spazio privato. Lo strumento digitale entra nelle case e se la donna vive una situazione di controllo continuo, non ha uno spazio, una stanza, un tempo dove si può dedicare alla presa in carico di questo problema. La violenza di genere, infatti, purtroppo, non si è mai fermata, anzi. Le donne hanno trovato meno possibilità di accedere ai servizi a causa del controllo 24H con il maltrattante. Per cui noi cosa abbiamo registrato? Abbiamo registrato una lieve diminuzione degli accessi in presenza. Diverso è invece se si va ad analizzare gli accessi in emergenza. Ad oggi, da gennaio all'8 marzo del 2021, queste richieste sono già nove. Questo ci dice che l'escalation della violenza è in crescita. Una mano alle donne vittime di violenza adesso arriva anche da Unicop Firenze, che ha donato al centro, grazie alla campagna, la buona spesa e buona due volte quasi 9.000 euro. Fondi che saranno utilizzati per implementare le attività e per supportare le donne nei loro bisogni più impellenti. Prima fra tutti l'aumento dei babysitter, perché in questo momento dove la donna magari si sta ricostruendo la sua vita, ha trovato lavoro, è necessario investire sui tempi di conciliazione. Un'altra area che abbiamo rilevato e abbiamo visto la necessità sono le traduzioni di eventuali documenti da allegare al fascicolo per i processi.